Emilio Donaggio riapre il campo della Croce Rossa qui al Molo Vespucci di Formia. Qual è l'impegno del corpo per garantire tutte le persone che verranno qui a starvi? Innanzitutto dobbiamo ringraziare quest'anno tutti i distretti sociosanitario e il comune di Formia che è stato capofilo perché su questa attività tutti i comuni sono comunque interessati perché noi abbiamo un distretto, poi il distretto ha deliberato questa istituzione di questo e il comune se ne è fatto carico, il comune di Formia. Allora l'impegno nostro è come tutti gli anni, questo è il quarto anno, noi garantiremo l'accoglienza notturna alla sera cercheremo pure nel corso del tempo di fargli, diciamo oltre a stabilire rapporti di tipo umano e sociale cercheremo anche di accoglierli con una cena serale, poi quest'anno è stata prevista questa scelta logistica dei moduli e quindi andremo a fare quest'altra esperienza perché noi con le esperienze passate era un'unica tendo struttura quindi qui dovremmo metterci più impegno, capire meglio ogni carattere di una persona perché sono persone che comunque vivono nel disagio, rimetterli dentro un modulo abitativo senza che si conoscono ci vuole tempo e dobbiamo essere molto attenti per evitare che ci fossero poi incomprensioni della di loro Quante sono le persone che verranno ospitate e come sono divise tra l'altro? Allora ci sono per adesso 12 posti uomini e 4 donne, in caso diciamo di emergenza ancora superiore possiamo arrivare fino a 20 la sera vengono qui, li accogliamo, li registriamo e prepareremo qualche attività pure culturale nel corso del tempo perché noi cerchiamo di fare, oltre il discorso dell'accoglienza fino a se stessi, cerchiamo di fare l'inclusione sociale cioè di riuscire, con qualcuno di noi ci siamo riusciti negli anni passati, di persone che vengono qui poi si ricostruiscono la persona e rientrano nella società come attraverso pure la ricerca di un lavoro, degli effetti familiari Ma da dove provengono? Sono persone che hanno scelto di stare per strada? No, allora prima il fenomeno nostro era quello che era la maggior parte stranieri da un paio d'anni a questa parte invece l'80% sono italiani e di questi italiani sono persone che comunque o vengono da un passato carcerario, quindi un fine pena, che poi non trovano più l'accoglienza cioè i comuni non hanno progetti di inserimento, oppure sono persone che hanno perso del lavoro e sono precipitate nella povertà più assoluta non avendo una rete sociale familiare il destino può essere segnato e qui è un punto per loro di ritrovare un pezzo di società che li capisca